Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Manuel Bortuzzo e Lulu hanno attirato il consenso del pubblico che spera ancora di vederli insieme Un amico comune ha svelato un retroscena inedito.Il notatore è stato molto criticato dopo aver preso la decisione di lasciare l'ex Geffino Ma non ha mai deciso di esporsi più di tanto se non affermando che si trattava di divergenze caratteriali Manuel Bortuzzo ha dovuto avere a che fare con molti haters e ne ha sicuramente risentito Un uomo forte come lui però non si è lasciato di certo condizionare Ha proseguito il suo percorso di vita come meglio ha creduto senza curarsi delle offese I numerosi fan hanno comunque continuato a sperare che tra lui e Lulu potesse rinascere qualcosa A tal proposito un amico in comune ha rivelato qualcosa che incastra Lulu Sapete di cosa stiamo parlando? Manuel Bortuzzo e Lulu, amico rivela retroscena Manuel Bortuzzo ha deciso di porre fine alla relazione con la principessa etiope lasciando senza parole i fan Sembravano essere uniti e felici durante i sei mesi trascorsi all'interno del GFVP6 ma la quotidianità ha fatto scemmare l'idiglio Il nuotatore ha scelto di fare un comunicato ufficiale all'agenzia ANSA Dopodiché il mondo del web è insorto Inizialmente anche Lulu si è sfogata in merito alla delusione ma le vere motivazioni non sono mai state approfondite . Ora lei si sta godendo un periodo di vacanza con le sorelle e la madre mentre lui ha avuto modo di ammirare il suo idolo ovvero Justin Bieber e di godersi vacanze meritate Proprio mentre entrambi stanno procedendo con la loro vita è emerso un particolare svelato da un amico comune Qualcosa che inchioda Lulu in pieno. Sapete di cosa si tratta? L'amico comune svela la verità.Un amico comune a Manuel Bortuzzo e Lulu ha rivelato come stanno davvero le cose. Questo uomo ha anche avuto modo di vedere nascere la relazione Già e questo perché si tratta di Giukas Casella. L'ex Jeffino ha rivelato senza filtri che Lulu ama ancora Manuel Giukas ha spiegato, lei non fa altro che parlare di lui e ha rivelato di averle detto più volte di dimenticarlo Ma anche di andare avanti con la sua vita come sta facendo lui ma lei è ancora molto presa Un'affermazione davvero inattesa dato che le cose sembravano ormai superate Noi ci auguriamo che entrambi abbiano davvero il meglio dalla vita che sia in coppia o soli Ma anche di non dare pesa alle parole che giudicano senza conoscere i fatti e purtroppo fa parte del gioco chiamato fama Tutto sta nel saper gestire le cose in una determinata maniera Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo Ciao e ci vediamo Ciao